Che volete che vi dica? Siamo in una situazione molto molto complicata e da una parte abbiamo la grande generosità degli italiani che scommettono ancora sul paese, sulla grande tenuta, sulle grandi potenzialità dell'Italia. Il BTP Italia è andato benissimo tra i risparmiatori privati, questo vuol dire che gli italiani credono nell'Italia, credono più nell'Italia di quanto non creda Bruxelles. Quindi è un modo per scommettere, un modo per non allungare l'indebitamento con strani soggetti e quindi questo è un atto d'amore degli italiani che sono profondamente legati al paese. Quindi non sono come Conte che chiedono l'atto d'amore alle banche e dopo dirò anche su questo qualcosina, ma è un vero e proprio atto d'amore dei risparmiatori cittadini italiani che scommettono sul paese. Raccolti 22,3 miliardi, la più grande emissione di questo tipo di titoli di Stato mai portata a termine dal Ministero del Tesoro. 14 miliardi per gli investitori individuali, mentre gli istituzionali ne avevano chiesti oltre 19,5. Ne hanno avuti 8,3 proprio per la grande adesione che ha avuto la sottoscrizione da parte degli investitori privati. Abbiamo parlato e riparleremo di FCA Auto, il decreto sui finanziamenti garantiti da Sace. Quindi sapete che i famosi 400 miliardi di cui aveva parlato il Presidente del Consiglio e che non si sono scaricati a livello di garanzia sull'economia reale, sui piccoli, perché hanno sempre una grandissima difficoltà, che che ne dica Patuelli, hanno grandissima difficoltà ad accedere al credito. Invece queste difficoltà non ci sono per i grandi soggetti. E quali sono quindi i grandi soggetti che si avvalgono della garanzia di Sace, della garanzia dello Stato? Sono quelle aziende che hanno una controllante all'estero oppure hanno stranieri azionisti. Quindi loro non sono soggetti al divieto di distribuire dividendi o di riacquistare azioni proprie. Quindi si fanno garantire dall'età, di fatto, si fanno garantire dalle tasse degli italiani e poi appunto staccano i dividendi. Sono quindi liberi di staccare ricco cedole in Olanda e in Lussemburgo, a Monte Carlo e a Londra. Ecco perché quindi il patriottismo o l'europeismo di alcuni, a cominciare dalla famiglia Elkan, ma non soltanto, ovviamente è qualcosa di scandaloso. Noi abbiamo quindi la garanzia di Sace, la garanzia dello Stato, a favore di una linea di credito chiesta appunto dall'ex Fiat. Quindi lo Stato garantisce, lo Stato con i nostri soldi garantisce per questi signori, come se non avessimo già dato abbastanza alla famiglia Agnelli, oggi Elkan, e ci prendono anche per il naso. Quindi nonostante questo aiuto, ennesimo aiuto generoso da parte dei cittadini italiani verso la casa madre Fiat, soltanto che oggi Fiat d'italiano non ha nulla, se non quattro aziende messe lì, rispetto a quello che abbiamo dato noi alla Fiat, messe lì in Italia. Ma la holding, la controllante, la sede legale e fiscale è nei più bei e più comodi paesi. E nonostante questo loro si fanno una bel dividendo di 5 miliardi e 5 e lo danno a Exor che è appunto la controllante. Va bene, va bene, va bene così, no? Vediamo altre cose. Mittal, Mittal, ex Ilva, ormai è opinione assai diffusa. Mittal lascerà l'ex Ilva. La signora che i Mittal hanno preso per guidare l'Italia è una di quelle, si chiama Lucia Morselli, è una di quelle figure scelte dalla task force di Colau, quindi pensate un po', pensate un po', è una delle persone scelte dalla task force di Colau per capire e per fare ripartire il paese. Allora, il governo si fa suggerire la linea dal task force di Colau, nella task force di Colau non c'erano imprenditori, quindi ha fatto una commissione di imprenditori e dentro questa commissione, come vi ho detto mille volte, ci ha messo dentro la signora Morselli che è la longa manus della famiglia indiana che controlla l'ex Ilva, a cui abbiamo dato l'ex Ilva, che è ancora sotto commissaria vento, che usciva dal commissaria vento, poi abbiamo Tronchetti Provera, poi abbiamo il fratello della Marcegaglia, poi abbiamo il grande capo di Fincantieri, Bono, abbiamo questi imprenditori qua, i soliti imprenditori, e abbiamo quello di FC Auto, il grande manager di FC Auto. Allora, io mi domando, Conte, ma tu non dici nulla? Patuanelli, Patuanelli, ma tu non dici nulla? Catalfo, Nunzia Catalfo, ma tu non dici nulla? Ora, voi... Va bene, non dico di recuperare l'impeto che aveva il movimento, un impeto popolare, poi c'è Riccardi che fa la sua pantomima, poi Riccardi non dice nulla, non ho sentito un intervento appassionato sulla condizione degli operai e dei lavoratori italiani. Il tuo governo, caro Riccardi, sta aiutando la famiglia Agnelli, ovviamente nel ramo Elkan, che è quello che rimane di potente della famiglia Agnelli, sei stato zitto. Riccardi, sei zitto? Perché stai tenendo in piedi un governo amico dei padroni? Amico dei padroni! È il governo che ha sbagliato tutto su Ilva e gli ha regalato le migliori condizioni possibili a questo padrone. Quindi abbiamo il padrone di Torino e poi abbiamo il padrone franco-indiano che viene e ha preso per il culo non solo il governo ma gli italiani. Finché prende per il culo il governo, non me ne frega niente. Ma siccome sta prendendo questo Mittal, Arcelor Mittal, stanno prendendo per il culo gli italiani e stanno ancora una volta umiliando i lavoratori tarantini, i lavoratori che vengono dalla Puglia e che stanno buttando la vita, l'anima, la salute. Qui si parla tanto di coronavirus, ma la morte per cancro dovuta a quella merda, a quel mostro gigantesco che si chiama Ilva. Patuanelli, Patuanelli! Perché non ci spieghi che cosa sta accadendo in Ilva? Perché non ci spieghi il fallimento delle tue politiche? Delle tue politiche? Ex-Ilva va K.O. Perdite record da oltre 100 milioni al mese. L'ex-Ilva di Taranto va K.O. Fracasse integrati ed assenti sono 4.900 dipendenti fuori dallo stabilimento. La produzione è crollata al minimo storico e accelera. Il discesso industriale è questo di fatto darà l'alibi straordinario a questi padroni franco-indiani di andarsene e di andarsene senza pagare praticamente alcun obolo. E questo è il capolavoro del governo Conte e del ministro Patuanelli che ha salvato l'Italia per l'ennesima volta. Abbiamo le aziende piccole aziende italiane in crisi ma giustamente Patuanelli cosa fa? Salva l'Italia! Evviva! Evviva! Patuanelli! Il ministro dello sviluppo economico dei potenti dei padroni Patuanelli amico dei padroni di Fincantieri di Bono degli amici di Trieste di Elcan di FCA Auto di Ilva dei Benetton perché poi alla fine è il Mise e parte ugualmente della trattativa sui Benetton ai quali c'è anche lì la possibilità di prendersi un prestito con la garanzia di Sace. Ma ragazzi ragazzi queste sono cose incredibili incredibili tutti quelli che hanno sede all'estero si pigliano i soldi con la garanzia pubblica ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Poi troviamo la pubblicità di Eolo che è un provider che conosco bello che è per i piccoli contesti che dice sono i piccoli comuni a rendere grande l'Italia certo ma i piccoli comuni sono fatti di quelle realtà che il governo sta massacrando nei piccoli comuni non ci vanno le grandi catene non ci vanno i padroni ci vanno i negozianti ci vanno i piccoli imprenditori io sono contento di una pubblicità che sottolinea il valore dei piccoli paesi perché l'Italia è la forza dell'Italia è la forza della somma dei piccoli sono contento quando trovo una pubblicità che sottolinea poi io li conosco anche Eolo viene dalla mia provincia dal mio tessuto urbano dalla provincia di Varese quindi sono contento di vedere un nome un brand varesino che va in giro per il mondo cioè che va sui giornali italiani sono contento assolutamente e sono soprattutto contento perché sottolinea la forza del piccolo ma il piccolo va salvaguardato dopo anni dopo decenni in cui dicevano che il modello della globalizzazione avrebbe soffocato il piccolo ah il modello italiano non può reggere il modello piccolo e bello non può reggere ma chi cazzo ve l'ha detto cosa avete la segatura dentro il cervello e invece questo governo con dentro quella fake che si chiama movimento sta distruggendo il piccolo sta distruggendo il piccolo Patuanelli sta distruggendo i piccoli è riuscito addirittura a rompere le palle persino all'emittenza locale perché bisogna dare le frequenze al 5G al 5G Riccardi che ieri ha fatto lo show riccardi dov'è la legge sull'acqua pubblica non l'avete ancora fatta io l'aspetto non vedo l'ora io quante volte ho anche sollecitato la mia commissione il presidente Girotto a dire adesso rivediamo obbligando le regioni adesso rivediamo i canoni di concessione di chi va a sfruttare le acque minerali loro facendo un gran business e lasciando sul territorio le briciole facciamo una bella legge sull'acqua pubblica è come se io voglio una legge sull'acqua pubblica a difesa dell'acqua pubblica e chi fa il business con l'acqua minerale che è anche quella un'acqua pubblica deve pagare alle regioni proporzionalmente rispetto al business che genera il mercato delle acque minerali e invece ancora nulla nulla perché? perché questo governo è amico è amico è alleato dei padroni dei padroni siamo nella settimana che commemora lo statuto dei lavoratori del 1970 uno statuto stupendo elegante scritto benissimo che soltanto il pidino liberista poteva progressivamente smontare cominciò treu fino al jobs act di Renzi con i voti della bellanova e con le sottolineature con gli applausi della bellanova io me le ricordo queste cose Teresa Piangens io me le ricordo me le ricordo queste cose avete smontato lo statuto dei lavoratori per fare l'atto dei lavori jobs act i lavoratori sono centrali non i lavori che poi voi fate diventare lavoretti l'occupazione l'occupazione è un dato statistico e quindi oggi abbiamo dei dati sul lavoro che sono allarmanti intanto sotto gli occhi della catalfo della inutile catalfo e ormai inutile perché entrambi sono al servizio dei potenti dei padroni quindi il tandem pentastellato catalfo patonelli ok sta guardando degli obrobri che stanno accadendo dentro l'emergenza coronavirus a marcianise l'americana giabile licenziamento collettivo per 190 dipendenti io me li ricordo quei lavoratori io li avevo descritti li avevo fatti parlare alla gabbia poi sono andato da loro sono andato da loro e prima con con il ministro del lavoro Di Maio che era ministro del lavoro e dello sviluppo economico avevano detto che inizia a vedere il sole forse inizia a vedere il sole il sole che mi illumina guardate godetevene anche voi godete anche voi e mi stavo dicendo che non hanno patuarelli e la catalfo stanno guardando uno uno scempio il licenziamento collettivo per 190 dipendenti in un momento in cui non potrebbero neanche farlo è inaccettabile durante la pandemia dicono i sindacati ma che cazzo servi patuanelli conte catalfo vi stanno prendendo per il culo tutti tutti vi stanno prendendo per il culo tutti vedete sto dicendo la verità e infatti il sole viene a illuminarmi è normale taranto piombino terni acciaio albivio tra stato e declino arseno mittal sempre più lontano dall'ilva lunedì sciopero generale thyssen mette in vendita ast e per la ex lucchini si pensa alla cassa depositi e prestiti che ormai cassa depositi e prestiti come se fosse chissà che cosa cassa depositi e prestiti sono i soldi degli italiani dei risparmiatori delle poste di questo stiamo parlando la liquidità è quella titolo di repubblica cassa integrazione 7 milioni in fila in aprile 835 milioni di ore di sostegno salari polverizzato il record negativo del 2009 4 milioni aspettano ancora un sussidio ragazzi la curva la fa vedere vedete guardate come si è impennata la curva della cassa integrazione e questo ovviamente rischia di essere il detonatore perché quando poi i soldi termineranno quando i soldi della cassa integrazione termineranno io voglio vedere le politiche di rilancio fatte con questi decreti che giusto all'orologio l'ho detto all'inizio è rotto ho detto che con questi decreti l'economia non riparte più va bene che sono bello il sole i baci belli però faccio così non parte più l'economia con la mancanza di liquidità e con la mancanza di semplicità ragazzi cosa volete cosa volete che vi dica il balzo di un solo mese porta ai livelli del 2009 quando ci fu la recessione vediamo i tassi di disoccupazione in Europa partite IVA e dipendenti 4 milioni restano ancora senza aiuti vedete a furia di combinare casilli fare annunci e quant'altro tu ti ritrovi con un mondo di professionisti a partita IVA o di altri dipendenti che rimane all'asciutto 7 milioni e 2 chiedono sostegno allo stipendio che però è arrivato solo per 4 milioni e 6 e l'assegno di 600 euro partito a marzo ci sono ancora 1 milione e 100 di cittadini che l'attendono io ho parlato anche con alcuni commercialisti mi dicevano che questo è un problema che riguarda anche i professionisti ci sono persone che continuano da 3 mesi a non avere una fonte di reddito a non avere un ingresso un'entrata dentro il conto corrente ma soltanto le uscite questo è quello che sono i dati sono i dati ufficiali sono dati ufficiali ma ripeto la cosa drammatica perché poi Conti dice il momento eccezionale le banche non aiutano amore mio se tu non sei capace di fare le norme questo è proprio il collasso tra Prometopoli tra il governo di Prometopoli ha generato promesse aspettative e quant'altro e Quaccaracquaconte cioè il fatto che dopo tanti annunci la norma scritta la norma partorita non è stata in grado e non è in grado di sbloccare un bel niente è inutile che Conte vai in aula e chiedi alle banche dopo che tu avevi già chiesto l'atto d'amore quindi sei anche un po' schizofrenico ecco perché io dico è Quaccaracquaconte tu non riesci a capire che se sbagli la norma offri alle banche l'alibi e gli strumenti per non erogare il credito a meno che tu non ti chiami FCA Auto a meno che non ti chiami Farinetti a meno che non ti chiami Benettono che guarda caso quei soldi li riescono a prendere e ma ti devi chiamare come loro quindi l'eccezionalità del momento visto che hai usato questa espressione Quaccaraconte hai usato questa espressione in aula l'eccezionalità del momento non è tale per esempio per la famiglia Elkan al quale con i soldi pubblici ancora una volta concediamo di staccare dividendi pari a 5 miliardi e mezzo complimenti complimenti regolarizzati 300 mila invisibili ma nei campi è sciopero dei braccianti poi ci sono quelli che vanno a prendere col charter dal Marocco i lavoratori stagionali perché loro sanno lavorare dicono in modo da salvare il raccolto chiusi 90 mila bar e ristoranti rischiamo di non aprire più quindi mentre diamo i soldi ad Alitalia diamo i soldi di garanzia a Elkan concediamo al padrone franco indiano Arcelor Mittal di fare quello che vuole concediamo alla multinazionale americana di licenziare 190 lavoratori e tanti saluti all'avvocato del popolo ok e intanto noi vediamo sotto i nostri occhi che un pezzo di economia reale chiude abbassa la sala cinesca ma se chiudono bar e ristoranti quel discorso che vi ho fatto sulla bellezza dei paesi dei piccoli centri va a carta 48 perché? perché sono loro che tengono in piedi i paesi se chiudono i bar i ristoranti i piccoli negozianti i piccoli commercianti i paesi chiudono volete far chiudere i piccoli paesi fatemi capire qual è il disegno che avete in testa è un disegno assolutamente affine al neoliberismo e poi quello lì va in aula a fare la pantomima va a fare il ceghevara dei poveri ma sei un ceghevara del cazzo ma sei una roba inutile inutile fanno tanto i ripeto i barricadini ma poi è inutile perché i lavoratori sotto il vostro governo vengono sfruttati vengono umiliati è il tuo governo che ha fatto l'operazione ILVA come l'avete fatto non siete neanche capaci di scrivere una cazzo di norma che in qualche modo renda impossibile ai padroni di andarsene senza pagare l'obolo Benetton revoca delle concessioni senza sé senza ma e infatti e infatti non solo hanno ancora le concessioni ma aprono le trattative fra un po' vedrete faccio una scommessa fra un po' siccome le cose non stanno andando come volevano loro ok perché con con l'eccezionalità del momento non hanno gli incassi dai pedaggi e quindi ora vedrete cosa faranno ora metteranno loro sul piatto sul tavolo l'abbandono della concessione in modo da fare causa al governo vediamo se faranno una cosa del genere ragazzi se Benetton dovessero dire vabbè allora lasciamo la concessione sul tavolo e il governo non gli revoca la concessione che gli stessi Benetton gli danno ragazzi andiamo sotto Palazzo Chigi perché a quel punto o sotto casa di Di Maio perché a quel punto sono dei grandi 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 truffatori culturali quindi hai Jabil che a Marcianise chiude nonostante l'obbligo di non licenziare durante il periodo dell'emergenza Covid e quello lo fanno perché le multinazionali fanno quello che vogliono e poi ci vengono a dire ma dobbiamo attrarre i capitali e gli investitori stranieri ma no anche no anche no perché se deve arrivare una multinazionale che si sente padrona padrona dei lavoratori italiani anche no statevene a casa vostra le multinazionali che pensano di venire a sfruttare lavoratori e finanziamenti pubblici erogati dallo Stato sotto forma di facilitazioni fiscali o quant'altro statevene a casa vostra preferiamo dare i soldi alle realtà italiane alle realtà italiane mi arrendo impossibile gestire la calca dei giovani Massimiliano Marostica da Padova in una giornata solo 100 euro devo richiudere Pierangelo Galasso da Roma le due facce dello stesso tema il manager anti-coronavirus che chiedeva il 5% sugli appalti tra l'altro questo qui arrestato per corruzione era uno che si vantava di essere un manager antimafia di uno che aveva fatto dell'antimafia la sua parola d'ordine la sua corazza la sua predicazione bene arrestato perché chiedeva 5% sugli appalti infatti Attilio Bolzoni scrive quei cattivi travestiti da buoni nell'isola che non cambia mai per la verità poi quell'isola è come se vorrebbe cambiare però poi accade sempre qualcosa per cui i simboli dell'antimafia diventano oggetto di baratto magari per una presidenza di commissione magari per cose del genere per cose del genere va bene vi ho detto Taranto Piombino Termi acciaio albivio tra stato e declino va bene ragazzi questo ormai è l'andazzo